Il congiuntivo ha un ruolo distintivo e si usa per eventi che non sono reali è relativo a ciò che è soggettivo e a differenza di altri modi verbali e adesso che lo sai anche tu non lo sbagli più Un fiorentino al Festival di Sanremo che insegna l'italiano, meglio di così? Meglio di così, giusto Dante prima aveva fatto una... no, non è vero, però sono veramente felice abbiamo portato un po' di Firenze al Festival di Sanremo, anche se Firenze c'è già sta Carlo Conti ha sbaragliato, Asini e poi quanti altri Però insomma è un bel risultato Beppe dati, no vabbè le dico tutti, canini, fallesi Quindi sul pacco dell'Ariston a fare una lezioncina italiana? Sì, ma una lezioncina, sai che io dico sempre sono il primo alunno di questa canzone nel senso il primo destinatario Non mi sento il professorino che vai a insegnare il congiuntivo a tutti, però essendo un grande amante, sai noi fiorentini è la nostra lingua, il fiorentino è la lingua più simile all'italiano, anzi l'italiano nasce dal fiorentino Quindi il grande amore per l'italiano e mi sono detto, voglio provare a raccontare questo amore con una canzone Qual è il più grande errore che tutti noi commettiamo quando parliamo italiano? Il congiuntivo Proviamo a fare una canzone sul congiuntivo E mi faceva ridere il contrasto tra questa canzone d'amore così passionale e il tecnicismo della grammatica Ma questa non è l'unica lezione, se così la possiamo chiamare, perché esce Bella Prof Esce Bella Prof il 16 febbraio, che è venerdì prossimo Bella Prof, 12 canzoni, 12 argomenti didattici Ogni canzone ha un tributo a un genere musicale diverso E la cosa che mi rende molto felice è che legato a questo disco ci sarà un programma che andrà su Sky 1 Che si chiamerà anche questo, Bella Prof 12 puntate, ogni canzone legata a una canzone del disco è il relativo argomento didattico Se ancora non bastasse si va anche in tournée, o meglio ancora anteprima di tournée E saremo anche, la cosa che interessa a voi, al lobby hall a Firenze Non mi ricordo quando, ma ci saranno i manifesti Ci sarà tutto Ci sarà tutto, andate sulla pagina, insomma lo trovate Oh, noi ci siamo già visti un po' di tempo fa, il sito di Firenze, io sono amico È vero, e noi siamo amici tuoi Esatto Quindi ci incontriamo a Firenze? Ci incontriamo a Firenze, io vi aspetto Vi aspetto, aspetto anche il sito di Firenze E aspetto tutti gli amici del sito di Firenze Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao